Easy, Easy, EasyZip Come convertire Zip in TAR Vai a EasyZip.com e fai clic su Converti, quindi naviga per Convertire Zip in TAR. Fai clic su Seleziona File Zip da convertire per aprire il selettore file o trascina e rilascia il file zip direttamente su EasyZip. Fare clic su Converti in TAR Inizierà il processo di conversione che richiederà del tempo per essere completato. Fare clic su Salva file TAR per salvare il file TAR convertito nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.